buongiorno a tutti siamo in compagnia del dottor giuseppe insalaco che lavora presso l'istituto di farmacologia traslazionale del cnr di palermo buongiorno dottore insalaco e grazie di essere qui con noi grazie per l'invito e buona giornata a tutti dottore insalaco il 17 marzo prossimo si celebrerà in tutto il mondo la giornata mondiale del sonno un evento annuale dedicato all'importanza del sonno e che ogni anno viene celebrato il venerdì che precede l'equinozio di primavera è un evento importante in quanto in occasione della giornata mondiale del sonno si ribadisce l'importanza del sonno e si fa un po un focus su quelli che sono i disturbi del sonno e le patologie adesso correlate negli anni la giornata mondiale del sonno che è nata nel 2008 ha acquisito sempre maggiore importanza e maggiore visibilità ecco dottore insalaco perché il sonno è così essenziale per la salute il sonno riguarda circa un terzo la nostra esistenza per cui non è un tempo breve né di scarso rilievo sicuramente l'istituzione della giornata mondiale del sonno ha avuto un'enorme rilevanza nel riuscire a sottolineare quella che ha che è l'importanza del sonno e come questa incida sulla nostra quotidianità sulla nostra qualità di vita la nostra capacità di esercitare tutte quelle che sono le varie attività che svolgiamo nel corso della nostra giornata il sonno è qualcosa di assolutamente essenziale ecco ed estremamente anche complesso nella sua struttura noi siamo molto propensi a pensare il sonno come un click qualcosa si spegne noi dormiamo e basta in realtà il nostro organismo è particolarmente attivo ed è quella fase nella quale vengono ripristinate tutte le nostre funzioni quello è il momento in cui si ristabilisce l'omeostasi del nostro organismo in cui vengono incamerate le esperienze della giornata in cui si crea quella che la nostra memoria noi spesso voletieri diciamo che non ricordiamo le cose bene se noi non abbiamo un buon sonno questo tipo di fenomeno si andrà presentando con sempre più frequenza per cui è fondamentale un buon sonno ci garantisce anche da quello che è quindi il deterioramento delle funzioni del nostro cervello per cui ha una delicatezza assoluta nella vita e qualità di vita di ognuno di noi ecco dottore insalco quali sono i principali disturbi che possono portare a delle alterazioni del sonno e quali i principali trattamenti allora i disturbi del sonno sicuramente il primo dei disturbi del sonno è l'insonnia l'insonnia che è di grande rilevanza ampissima diffusione e sappiamo è che ovviamente è a causa di diversa natura e causa possono essere le abitudini di vita voler far tardi della notte il dormire o aver mettere a disposizione del sonno un numero insufficiente di ore ma vi sono delle patologie che incidono sul sonno in modo decisamente rilevante tra queste sicuramente la più diffusa quella che ha una evidenza una epidemiologia simile a quella dell'insonnia sono le preostruttive del sonno che sappiamo interessare quasi 900 milioni di persone nel mondo e che in italia si stima siano affetti circa 14 milioni di soggetti in età adulta ora dei soggetti che possono essere affetti da questa patologia ovviamente quelli che hanno una forma conclamata sono circa 4 milioni una forma decisamente evidente e tutto questo si ripercuote su quello che è l'andamento del nostro sonno viene alterata sia la microstruttura del sonno ma anche la macro struttura del sonno si hanno una serie di alterazioni che tendono a portare ad un aumento anche di risvegli una volta che ci si è addormentati bisogna anche un numero di risvegli che vengono definiti arousal di breve durata sono meno di 15 secondi i quali però sono sì di breve durata ma nello stesso tempo non abbiamo nessuna memoria per cui un soggetto che ha tantissimi di questi brevi risvegli tende a non avere nessuna coscienza di questo quali sono gli indicatori di questa cattiva qualità del sonno nel corso della giornata e la sonnolenza la propensione ad addormentarsi in condizioni nelle quali normalmente dovremmo essere assolutamente vigili attenti e performanti e la presenza di un rallentamento delle nostre azioni dei nostri di quelli che possono essere la nostra reattività a degli stimoli esterni per cui il risultato finale sono una riduzione della nostra efficienza in quelle che sono le normali condizioni di vita e sono molto interessanti alcuni dati che si sono curati di raccogliere i colleghi dadesi nei quali hanno dimostrato che i soggetti con questi disturbi sono soggetti che vanno sì incontro a più incidenti sulla strada vanno incontro a più incidenti sul lavoro ma sono anche soggetti quali hanno una ridotta capacità di produrre reddito sono soggetti che hanno un maggiore consumo delle risorse sanitarie sono soggetti i quali vanno più frequentemente incontro a una serie di accidenti di tipo o di problematiche di natura cardiovascolare e metabolica rispetto al resto della popolazione tutto questo ci portano a porre queste problematiche come centrali da attenzionare e devo dire che grazie appunto alla giornata mondiale del sondo che appunto verrà sarà il 17 marzo si è riuscita a dare molto più rilevanza a queste problematiche che hanno grandi ricadute sociali e l'attenzione che viene posta sulle patologie del sonno e in modo particolare sull'artero sottile del sonno è aumentata enormemente sia sulla carta stampata che su quelle che possono essere le trasmissioni televisive non è infrequente oramai a vedere un richiamo alla patologia anche in molti film che vengono trasmessi ecco dottor insalaco se qualcuno dovesse chiederle cosa posso fare per migliorare la qualità del mio sonno lei che consigli si sentirebbe di dare allora la prima il primo consiglio ovviamente di identificarne la causa e trattare la causa questo è il dato che va sempre proposto nel caso delle apnei andranno curate le apnei con quello che sarà il trattamento più idoneo ad oggi il trattamento di riferimento e la pressione positiva continua ma frequentemente abbiamo detto un altro grosso problema del sonno dell'insonnia e anche in quel caso dopo avere approfonditamente ricercato quelle che possono essere le cause che a volte possono anche essere volutuarie e diventa estremamente importante avviare dei trattamenti un trattamento sicuramente che può trovare grande efficace essere molto utile sono la terapia cognitivo comportamentale che può permettere una notevole risoluzione dei problemi senza ricorrere immediatamente a quelli che sono i classici farmaci per dormire che spesso e volentieri possono anche determinare fenomeni collaterali non sempre molto gradevoli certo ringrazio dottor insalaco per il prezioso contributo che ci ha dato anche per farci comprendere meglio il significato appunto di questa giornata che si terrà il 17 marzo prossimo grazie dottor insalaco e buon lavoro grazie a tutti voi